Così come era stato annunciato dal primario del pronto soccorso arcense Martino Bellusci, al pieno terra dell'ospedale arcense sarà allestita una sala pensata per ospitare le pazienti che si dovessero presentare in ospedale nell'imminenza di un parto. Ovviamente non sarà una tradizionale sala parto, ma piuttosto una sala attrezzata per effettuare il parto in condizioni estreme, ovvero quando non c'è modo e tempo di pensare ad un trasferimento, come quelli avvenuti nei giorni scorsi dopo la chiusura definitiva del punto nascite alto gardesano. Nel frattempo c'è chi si rimbocca le maniche e vuole tentare la riapertura del punto nascite di Arco. A questo scopo è nato il comitato Salviamo il punto nascite dell'ospedale di Arco e le guardie mediche Salviamo il diritto alla salute. Il neonato comitato vede ora una ventina di sostenitori, molti dei quali sono consiglieri comunali dell'alto garda e delle giudicarie, ma cerca anche adesioni tra tutti i cittadini interessati. Questo nuovo comitato si è presentato alla stampa questa mattina alle 11 in un luogo di confine territoriale, l'Ampola, proprio a cavallo tra l'alto garda e l'edro e le giudicarie. Sentiamo l'intervista. È stato presentato oggi questo nuovo comitato per salvaguardare il punto nascite di Arco per la riapertura. Innanzitutto, da chi è composto questo comitato e come è nata l'idea? L'idea è nata dopo un lavoro che da mesi stiamo facendo nei vari consigli comunali e l'idea è quella di coinvolgere il più possibile i cittadini e questo comitato è composto da consiglieri comunali ma anche da cittadini e da cittadini rappresentanti di associazioni. Gli scopi di questo comitato e gli obiettivi che volete raggiungere quali sono? L'obiettivo ovviamente principale è questo del punto nascita, però senza dimenticare la questione guardie mediche e molte altre questioni legate alla salute in generale. Infatti il comitato non solo si chiama, è nel nome riferito il punto nascita, ma anche salviamo il diritto alla salute perché è un diritto sancito dalla Costituzione e non vorremmo che in qualche modo in questo periodo, in questa riorganizzazione, in qualche modo potesse venire meno questo diritto principale per tutti. Lei pensa che ci sia una possibilità concreta che il punto nascita di Arco possa riaprire in futuro? Allora questo dovrebbe sostanzialmente essere una priorità anche perché avendo un centro di procreazione assistita che dovrebbe diventare un fiore all'occhiello per quel che riguarda lo sviluppo in questo senso, in quest'area, nel settore della sanità, non ha senso non chiudere il percorso a 360 gradi. Il fatto stesso poi è che in quest'ultimo periodo tutte queste difficoltà che stanno riscontrando le persone, le donne, soprattutto ribadisco le donne che sono le prime interessate a questo problema, a partorire, dover andare a Trento, a Rovereto con tutte le difficoltà del caso che sono sotto gli occhi di tutti è sostanzialmente una cosa che deve far ripensare a chi ha preso questo tipo di decisione. Il fatto stesso che poi come cittadini si prenda parte di questo comitato vuol dire che lo scopo è più alto rispetto a quello che è una semplice connotazione o richiesta politica perché qui sono state messe insieme tutte le forze sociali e anche delle associazioni perché è proprio una richiesta che viene dalla base dei cittadini che sostanzialmente si trovano in una grossa difficoltà. Io credo che sia fondamentale soprattutto che poi questo problema venga anche allargato a tutto il Trentino soprattutto con altre zone che possono avere problematiche similari perché vista la situazione tutta la definizione di questo piano sanitario forse va rivista e ragionata in termini obiettivi concreti e soprattutto con un confronto positivo dalle parti. In questo caso si può sicuramente avere un risultato non che sta bene a noi o a qualcun altro ma che sta bene alle persone che vivono nel Trentino non solo nell'Alto Garda Ledo e anche come abbiamo visto dai giornali c'è gente che viene a partorire dall'estero per cui mi sembra che tutto il discorso della sicurezza del numero dei parti tenuto a conto anche dell'orografia della zona vada rivista. Lei viene dalla Val di Ledro e quindi è doppiamente coinvolta in questa chiusura perché voi usufruivate del reparto anche dell'ospedale di Arco. Ma certamente stiamo vivendo con grande preoccupazione dopo magari le donne proprio in questa fase fanno fatica a muoversi e a scendere in piazza. C'è un peso dato da questa forma di rassegnazione dal sentire la politica così distante che fa scelte che non sono vicine ai cittadini e le donne sono maggiormente penalizzate. Chiaramente noi a Ledro adesso abbiamo anche questo spauracchio della chiusura della guardia medica. Chiaramente siamo in montagna, siamo più lontani per noi raggiungere il roverito Trento. È veramente un impegno che ha diversi aspetti negativi, che porta con sé diversi aspetti negativi, le difficoltà proprio logistiche, ma anche proprio questa perdita del momento del parto come momento in cui, che è un momento importantissimo per la donna e per la famiglia in cui c'è una certa serenità. Le distanze, i viaggi, il traffico, il tipo di strada, i passi che dobbiamo passare non ci garantiscono assolutamente quello che è la serenità che dovrebbe essere di questo momento fisiologico di per sé per la gran parte dei parti. Non è che sempre dovrebbe essere un'emergenza, invece la distanza rischia di far diventare una gran parte dei parti un momento d'emergenza e questo è penalizzante per noi tutti, ma proprio chiaramente il diritto alla salute dovrebbe essere, dovrebbe garantire a tutta la popolazione, anche nelle valli, il diritto alla salute e il diritto agli stessi servizi. Quali saranno le azioni che il Comitato metterà in campo nei prossimi mesi? Adesso da oggi cominceremo la raccolta delle firme per l'adesione al Comitato e tutti i cittadini sono invitati ad aderire. Poi con i cittadini stessi cercheremo di capire quali sono le azioni migliori da fare. Noi abbiamo aperto una pagina Facebook che ha avuto fin dai primi giorni un risultato enorme e abbiamo moltissimi cittadini che ci mandano dei messaggi chiedendo di raccogliere le firme, per esempio, e quindi avvieremo una raccolta firme con un documento condiviso con i cittadini. Faremo delle serate pubbliche. Non escludiamo nessuna iniziativa da nessun punto di vista, tant'è che abbiamo già preparato tutta la documentazione consegnata all'On. Ottobre e Fraccaro, i quali la porteranno al Ministro Lorenzin. Questo è un pacco molto alto di documentazione dove da Roma possono vedere in modo migliore la situazione e forse possono anche suggerire soluzioni diverse.